Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ho deciso di truccare Gaia da vendata Non sapremo cosa succederà, ma comunque iniziamo! Cominciamo a mettere un cerchietto a Gaia, anche se hai capelli legati, però io vedrò il mio trucco dalla telecamera Io mi venderò con questa bandiera di... Bandiera, sì Guardate quanti trucchi, io ti devo mettere i trucchi qua Sì, però con i pennelli in mano perché non voglio che sbagli i pennelli Questo penso che sia il fondotinta Adesso dobbiamo metterlo sul pennello, ed è questo il problema Ma non si mette sul pennello, però facciamo che... facciamo che si va L'ho messo? Farmelo a vedere! Farmelo a vedere! No, non me lo dire No, no Non me lo dire Allora Lo metto io? No Devo capire Perché non si mette... 2000 anni later Non lo hai cercato Ah, però io sono più l'euro per il follow team Aiuto, 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 aiuto Non so neanche cosa sto toccando, però... La mia faccia Ah, meno male Meno male adesso è bella brava ok adesso questo sai secondo me che cos'è? la cipria iniziamo bene ok dov'è il pennello? non so neanche cos'è però va bene dov'è scegliere tra questi da capisci da questo suore si brava hai messo? si allora cos'è quella forma di unicorno? ecco brava quale sceghi? questo? è uno specchio io mi vedo dallo specchio guardate ragazzi allora apriamo questo non devi stare qua non so neanche cosa sto prendendo dai non stai prendendo il trucco come no e che cos'è questo? è il trucco che ti stai spostando tutte le mani questo non è un trucco da per la partita ma che stai facendo? che cos'è? il mio naso aspetta che cosa sono? non so neanche che ho preso no no non si vede questo qua io ho prendendo ma questo ho insomma questo voglio dove è? è piccolino questo l'ho misto è ancora sugli occhi perché? lo stai prendendo non si mette le guance? no come i pennelli grandi proprio bellissima si infatti si adesso devi vedere un poco di rossetto così te lo metti il mascara si no voglio il mascara dai spiegami l'occhio no no giuritilo hai paura? molta allora dimmi no come li stai mettendo dai capelli allora Elena ho troppo paura dimmi come la sto mettendo aspetta non te ne appoggio l'occhio no dici tu come bene si posso fare? basta basta non è vero è cosa è sta cosa? è il mio non è questo occhio non è l'occhio è qua dimmi sposto ok l'hai messo ora bello il rossetto il tocco finale e poi vediamo il risultato questo ok aspetta spero che sia un bel colore sia un bel colore chi dici? questo è il tuo dito non è il mio dito si ti stai pitturando ah no vorrei vedere se era uscito di fuori il bel dove sei? chiudi stai così no non è una bocca di balena ragazzi bellissima meravigliosa ma l'ombretta neanche si vede è infatti ma e niente ragazzi questo è il risultato finale ti è piaciuto ovviamente dai un voto da 0 a 10 0 ok molto gentile come al solito e scrivete nei commenti no no scrivete nei commenti se vorreste che lei mi truccasse bendata e no no e niente questo è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao ciao